Devo fare assolutamente un video per commemorare questa cosa Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter E oggi ragazzi siamo in un nuovo video di Fortnite Allora raga, ho appena finito tutte le missioni per quanto riguarda la skin oro E quindi raga, ho ricevuto il piccone ed è una roba assurda, cioè è troppo bello Sembra piccolo l'immagine ma è gigante Ed è bellissimo, poi io e Ricky prima stavamo facendo una partita e siamo arrivati secondi E praticamente in quella partita abbiamo trovato uno con quella skin ed è tutta luminosa come il piccone C'è una roba bellissima Sì, è una scia luminosa, tipo una roba di Diana No vabbè fa anche il rumore dell'oro, no sto piccone è bellissimo Ho appena per capo come Dexter Ne ho già tre Ricky guarda, Ricky guarda il piccone, Ricky guarda il piccone No, guarda No, no Senti io o no vabbè No, no, no Bellissimo, senti fa il rumore dell'oro Aspetta voglio vedere quante vidaglie sono A 23, madonna, non ci arriverai mai Ma come non ci arriverai mai Sto ci sterti come Franci, puoi arrivarci in un vedi spugno Esatto C'è bellissimo, regale, è troppo bello Non ti do neanche i figli Tanto ne ho già tre Ha 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 Il piccolo e il tattico è piccolo È stato bellissimo quando ha detto Tante logiche tre Ha 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 È ancora un altro, ma adesso è Ma scusa oi Ma se io ho ho tre casce non mi dovrebbe dare la medaglia Per te Franci Sì si sa lo l'ho appena fatto oggi c'è tutto l'antigeno non c'è tutto l'antigeno lo so aspetta perchè c'è un tipo da me ancora gente bella lì oh cazzo la massa per uno con la c4 eh si è forte la c4 ma ci devi per un giro tu uno si ne ho appena acceso uno si si perchè ci devo farsi bene ragazzo a contare i sordi boom bello zio adesso come minimo muoio stavo morendo veramente ragazzo stavo morendo veramente aspetta aspetta con calma oh cristo di chi vuoi si è granato prendi questo scagnozzo apri oddio poi la francia di chi mi piace un po di cento da me vuoi arrivare io mamma mia mamma mia ragazzo rischiando di morire male ti avviso non ho più colpi di dov'è cosa la pistola ecco io la pistola la pistola dai faccio schifo col cecchino dai no 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 parole cioè ho una mila del cazzo veramente porto il cecchino mannaggia te mannaggia no 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 non ti può non te lo farò scappare per non me lo farò scappare più niente è troppo fori utile cecchino ti do il pompato il pico proposta allettante è la prima cassa che ho aperto il pompato prima me lo fai vedere dopo io ti do il cecchino ciao Ricky no ciao andiamo via col mio ricordo prima dammi il pompa ora si però me lo dai io ti do il cecchino vedi ce lo hai mano te lo faccio vedere anche io dammi il pompa e te lo cecchino no 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 Pippo no no dai Pippo ascolta e non mi cadere in testa che mi fai dando posso guidare io almeno posso guidare io per mettere la radio era questo dai ho fatto che si spara mi fai mai mi ha detto da 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 dove dischi è ormai domattile Tristezza Potremmo andare alla grotta Fran c'è un floppere qui da io Grazie Pippo mi devi dare ancora il pompa Io ti avviso No, io mi giro il pompa La fili si erano in cecchino No Ma c'è un lato? No, scendiamo però Perché per fanci c'è il fallo Non è stato spiegato ai medici Cosa è quella roba? Anicsp viola qua Sono tutto lo vedi Eh, perché l'avete già preso Io non vado mai sulle montagne Oddio Topico blu Per chi vuole Panci vieni Grazie Andiamo un po' a mettere un po' di casino a corso Eriki mi dà il flop per favore Flop? Ti ho fatto il flop? Sì Ma 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 ti ho entrato? No Cioè doveva entrare Però non è entrata come al solito Guarda che bello Sto piccone Bellissimo Io ho già Ma è in the way poto scusate Wow Altre granate Regà mi servono colpi di Colpi medi E colpi di pompa Colpi medi Colpi medi Sarebbe di colpi Per il Se vi stiamo Ma anche c'è un'azione Sì vabbè non mi interessa Pivo ai colpi di colpi medi Ciao Se io anche colpi pompa meglio Grazie Che brutta sky Ma non piace C'è tipo qua Pippo Pippo No Dai ma c'è una mira del capo Che è successo Grazie Ho già 2 Qualcuno Due medici Qua se volete Se li potete portare Vabbè li porto io al posto del 124 Oh Pippo Vedete che ne ho scelto Ecco Però metti la musica Dai Ricchi Metti la musica E che Ciao Se cecchini Purtroppo Madonna Come faccio a cecchinarlo Che già Andiamo a cecchinarlo E uno dall'acqua Se più mi lagga Comunque ai mano Eh vabbè Un po' di turdo Ma c'erano me su un jump Boh Siamo qua Ci posizioniamo qua in zona Vedo uno qua Vedo uno qua C'è gente qua Ricchi c'è gente qua C'è gente qua Alla casa moderna Oh 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 Dai Non ci posso Credere Faccio prima Ad andare di nosco Oh Mi ha distrutto Regà Mi serve Un medikit Da Pippo A notte qua Oh Oh Qualcane Oh cos'è Stai tranquillo Stai tranquillo Oh puttana Oh Guarda questo Vabbè Prima che mi finisce Ma tu Allora Non ho più vita Io Dai ma santo dio Non si può Oh squad Dulce